Si rafforza la collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Marittima della Toscana per garantire la sicurezza della filiera del pesce. L'accordo è stato siglato a Firenze dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e dal direttore della Direzione Marittima, Contramiraglio Giuseppe Tarsia, e prevede controlli congiunti sulla pesca, sulla commercializzazione, sulla tutela delle specie ittiche, sulla vendita e la somministrazione del pesce nei ristoranti per migliorare i controlli sulla filiera alimentare. È uno degli aspetti sui quali le nostre aziende sanitarie lavorano insieme ai servizi veterinari e quindi crediamo che sia una buona cosa coordinarsi e migliorare la linea d'azione proprio a tutela dei diritti dei consumatori. Il Contramiraglio Tarsia ha ricordato i risultati già messi a segno sul fronte della sicurezza alimentare in Toscana, in alcuni ristoranti di Livorno e Calambrone, oltre che in locali a gestione cinese di Prato. Questi tre episodi che sono simbolici di un'attività che vuole essere continuativa nel tempo denotano come il rapporto esiste e abbiamo deciso adesso di strutturarlo, metterlo all'interno di un accordo quadro a quale poi farà seguito una serie di accordi operativi che avranno il beneficio di uniformare le modalità, i tempi, le esecuzioni dei controlli su tutto il territorio con i diversi dipartimenti dell'USL che operano sul territorio toscano. L'accordo contempla anche attività di ricerca e di raccolta dati ed è valido fino al 31 dicembre 2020, potrà essere rinnovato per il triennio 2021-2023.